Nothing Kill ma accanto Città regà Città costa, questa città costa ragazzi lezione comparato da ieri ad oggi non fidatevi mai del meteo che vi dice il telefono e diceva oggi non piove proprio così prima tappa turistica se siete in cerca di sorrisi gente molto felice della propria vita venite arroz venite arroz è il posto perfetto tutti che ti alcolgono con con grande calore tutti felici del proprio lavoro la chiave ospitalità ci sentiamo proprio accolti forse una delle cose più belle di arroz sono queste scale qui da egizi sembra di stare a un museo flavia scioccata belle abbiamo trovato la scarpa più bella di arroz adesso flavia ci fa una dimostrazione sì perché vogliamo essere belle vogliamo essere funzionali alla moda una sola e semplice scarpa tu hai la scarpa sei fashion e ti rimetti anche il blush funzionale ragazzi 1300 pound arroz abbiamo messo tic ovviamente non ve lo consiglio però però banda andava e si salva dalla pioggia esatto salva dalla pioggia e se vi scappa la pipì ottimi bagni ottimi bagni molto puliti abbiamo trovato posto al balcone di questo pub bellissimo e adesso mangeremo qui in san vero curiosità time per quando siete al pub inglese non vi va proprio una birra però volete un po di birra ordinato e uno scendi che vi faranno metà birra c'è un dubbio che ci tormenta ci tormenta proprio soprattutto clavia questa qui dietro ha buttato un cappotto per terra per mettere il cane sopra sarà il suo cappotto o un cappotto fatto apposta per il cane non possiamo andare via da questo pub se non lo scopriamo quindi aspettiamo è uscito pure il sole ce ne andiamo a notting hill a portare queste due ragazze in giro guarda il sole poi prendete il cialatto io prendo il sole curiosità time questi erano queste cose venti erano dei bar privati per i tassisti esatto bar privati per i tassisti alcuni di questi sono ancora aperti attrazione turistica numero 166 del weekend clavia sei pronta eccoci a Porto Bello Road dov'è Ugrant? voto adesso lo andiamo a prendere oggi è chiuso tutto a Porto Bello Road se volete il mercatino non venite di domenica pomeriggio anche se è perfetto perché non c'è un'anima ci siamo solo noi considerazione del giorno siamo veramente dei meteoropatici dopo aver vissuto cinque anni a Londra è uscito un po' di cielo azzurro e noi sprizziamo gioia da tutti i pori è così Londra fa questo effetto dopo un po' di tempo curiosità sui muse queste poi ovviamente citiamo la fonte di tutte queste informazioni che so grazie a Jack il mio amico della Nuova Zelanda che mi ha raccontato tutte queste cose grazie Jack i muse erano praticamente delle antiche stalle per i cavalli tu praticamente venivi qua e ci parcheggiavi il tuo cavallo invece adesso sono diventati dei loft super trendy carini molto molto carini dove ci parcheggi la macchina e qui queste erano proprio delle antiche stalle i tour de force da turisti ecco lo stiamo vivendo non ce la facciamo più ma continuiamo ad andare continuiamo a mettere un altro deck a Covent Garden allora stanotte è cambiata l'ora quindi sta per tramontare alle 4 e mezzo noi se ce la facciamo andiamo a vedere il tramonto da da un ponte molto carino vediamo vediamo se le nostre gambe tengono se lo volete adesso diciamo non è più periodo però veramente molto buono questo frozen yogurt grazie per questa informazione una palla da basket che terza ciao palla è stato un weekend bellissimo freddo freddo ma se ne andiamo a casa sperienza in autobus in prima fila fatto metti sto pic fatto a Flavia mi sta talmente piacendo il giro turistico che si è addormentata concludiamo questo weekend con il tic più turistico che c'è un'altra domanda tornerà in Italia tornerà perché ospitalità voto 10 comodità del letto 10 la prima volta c'è ospitanti 10 e tour experience 10 più 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 10 più 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 ciao ciao